Ma come ci si strucca correttamente? Ti mostro un modo semplice e super efficace per struccarsi bene in soli due minuti Così non avrai più scuse per andare a dormire truccata Evita l'acqua micellare e il bifasico E le salviettine struccanti Perché non solo non detergono accuratamente la pelle Ma in più contengono tensio attivi I tensio attivi sono dei saponi Che non vanno per nessun motivo lasciati sulla pelle Perché sennò potrebbero creare irritazioni Ma vanno sempre risciacquati Inoltre rimuovono il trucco e lo sporco attraverso uno sfregamento Che potrebbe irritare la pelle E se hai già la pelle sensibile potrebbe peggiorare la situazione Come primo step per rimuovere il make-up Utilizza un burro struccante oppure un olio detergente Che ti aiuta a rimuovere il make-up in modo molto delicato E soprattutto velocemente Successivamente sciacqua il viso Rimosso il burro struccante utilizza un detergente a base acquosa Che ti aiuta a ripulire la pelle ancora più in profondità E a rimuovere i residui di detergente oleoso Successivamente sciacqua bene E voilà Viso completamente struccato